Di Luca Moretti non si hanno più notizie da tre settimane. Il 26enne Aretino è infatti scomparso il 26 maggio scorso da Rigutino. Adesso anche la trasmissione di Re 3 condotta da Federica Sciarelli, chi l'ha visto, ha lanciato un appello. Il giovane al momento della scomparsa indossava pantaloni beige e una maglietta manniche corte, alto 1,80 m di corporatura robusta. Le ricerche ad Arezzo non si sono mai fermate. Inizialmente le forze dell'ordine hanno battuto la zona della Val di Chiana in base all'ultima cella agganciata dal cellulare del ragazzo. Ma non solo. Vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri lo scorso mercoledì hanno infatti concentrato le attività in zona manziana tra Frassinetto e il canale Maestro della Chiana, poco distante dalla frazione dove abita il 26enne e da dove sarebbe scomparso. Al momento però le ricerche non hanno portato alcun esito. Sui social network infine continuano gli appelli degli amici di Luca. La richiesta è sempre la solita. Chiunque avesse notizie del ragazzo contatti le forze dell'ordine.